Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi parliamo delle due antiche città di Atene e di Sparta perché l'amico blogger 060606 mi ha mandato un articolo del giornalista e docente e Gelmini lo definisce anche ipercattolico del giornalista e docente universitario mi pare Maurizio Blondè. Mi sembra anche che questo giornalista collabori con il quotidiano torinese La Stampa e l'articolo è del 15 ottobre 2008 ed è intitolato Il silenzio di Sparta. Ora vediamo, io vorrei darvi un esempio di come sia difficile procedere se non siamo in possesso di una linea interpretativa, di un codice interpretativo dei fatti. Maurizio Blondè sarà senz'altro un ottimo docente universitario, un uomo di grande cultura e di grande erudizione. Però a mio parere gli manca una rete, un reticolato interpretativo e senza reticolati interpretativi non si fa nulla. L'aveva detto già Karl Raimund Popper nel suo libro Logik der Forskung La logica della ricerca scientifica uscito nel 35 il quale disse che se uno non ha delle idee in testa non può cercare niente perché si va in giro a fare che cosa? Uno deve avere un'idea nella sua testa. Sulla base di un'idea, di una ipotesi, uno va a cercare le cose che rispondono a quella sua ipotesi e poi si faranno le verifiche o si faranno le confutazioni e si vedrà. Ci vuole un'ipotesi, una teoria. La teoria. Karl Raimund Popper parla delle teorie. Allora, e questo bravo professore Maurizio Blondet ci dice appunto che Sparta è morta, cioè il testamento, ciò che ci ha lasciato Sparta non c'è, non c'è più. Sparta non ci ha lasciato niente, dice Blondet, e invece Atene ci ha lasciato tutto, no? Tutta la filosofia, la grande filosofia e via di seguito. E poi ci avverte anche che Socrate e Platone amavano, amavano Sparta. Come se quello di Socrate e Platone, osserva Blondet, appunto fosse un pensiero reazionario in quanto guardavano con simpatia a Sparta, che sapete rappresenta l'elite, l'aristocrazia militare Sparta. Però dice di Sparta non è rimasto più niente. Non è rimasto più niente. Della Sparta guerriera non è rimasto più niente. E invece dell'Atene mercantile ci è rimasto tutto ancora. La filosofia occidentale, come osserva Emanuele Severino, ha le sue radici della filosofia greca. Non è il buddismo, è la filosofia. Il buddismo non si nomina mai. Bene, allora vediamo invece come la questione dal punto di vista più modesto di Serafino Massoni sono un po' diverse. Sparta e Atene, diverse tra di loro? Perché Sparta tutta guerriera, priva di pensiero? Beh, lui dice un pensiero di tipo esoterico, quello di Sparta. Un pensiero di tipo esoterico, misterioso, nascosto. E Atene invece, diversa da Sparta perché Atene brillava per la sua cultura? Per la sua cultura? Il silenzio di Sparta sarebbe... Il pensiero di Sparta era un pensiero introverso, tutto rivolto verso i misteri della religione. E invece il pensiero di Atene, di Atene era un pensiero estroverso, un pensiero che discuteva dell'esistenza di Dio, della non esistenza di Dio. La diversità tra Sparta e Atene, dal mio punto di vista, dalla mia teoria, è pressoché inesistente. Perché Sparta e Atene solidarizzarono completamente in quello che fu il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Dici, eh, ci canti sempre la stessa musica? Eh beh, andateglielo a dire ai preti in chiesa, anche voi, andateglielo a dire in chiesa ai preti che parlano dal pulpito. Ditegli, sono duemila anni che ci dite le stesse cose. Perché? Allora, se lo dicono i preti da duemila anni le stesse cose, lasciatele dire a me che è un anno, un anno e mezzo che ve le dico, eh? Allora, solidarizzarono in pieno Atene e Sparta nel rovesciare il matriarcato, nel costruire il patriarcato, nel rovesciare la mitologia matriarcale e nel sovrapporre ad essa la mitologia patriarcale. Ma guardate, non è un caso, non è un caso che lo stesso Omero abbia dovuto scrivere nell'Iliade e nell'Odissea che la guerra di Troia nacque perché c'era di mezzo la città di Sparta. Ma che strano, ma che strano! La bella Elena era una regina di Sparta. Era la regina di Sparta, moglie di Menelao. Guarda caso, non era la regina di Atene o la regina di Micene o la regina di Argo, no, no, era la regina di Sparta. Era la regina di Sparta. Atene, Atene ha collaborato alla Pari, no, no, Sparta, ha collaborato alla Pari con Atene e con tutte le altre città della Micenia a instaurare l'ideologia patriarcale. E il rovesciamento definitivo della potenza matriarcale avviene proprio ai tempi della guerra di Troia, la quale si colloca all'incirca nel 1190-1180 avanti Cristo. Ma ciò che avviene in quel periodo è la distruzione del potere della Grande Madre e nei quattro secoli successivi che saranno chiamati Medioevo Ellenico i vincitori patriarcali per quattro secoli non faranno altro che fare tabula rasa dei templi, delle statue, dei documenti della Grande Madre, del matriarcato. Tant'è vero che terminati i quattro secoli di Medioevo Ellenico le tracce del matriarcato saranno state completamente eliminate. Lo stesso Omero, lo stesso Omero o chi per lui, scrivendo i suoi poemi e cerca di ricordare ciò che si tramandava a voce nei quattro secoli precedenti perché fu fatta tabula rasa. Spartani e Atenesi insieme fecero tabula rasa. Non si sa poi di che quattro secoli lì, chiamati appunto Medioevo Ellenico, non si sa più niente. Furono impiegati? In che cosa? Certo che furono impiegati. Ci vogliono quattro secoli per estirpare le ultime tracce del matriarcato. E beh, è successo pure col cristianesimo. Uh, i pagani, i pagani, quelli che abitavano nel pagus, nel villaggio. E magari il cristianesimo trionfava a Roma, a Milano, a Costantinopoli, eccetera, e nelle campagne c'erano ancora i culti pagani. I culti pagani sono sopravvissuti in Italia fino a non molti secoli fa. Stessa cosa. Allora, Atene e Sparta, caro Maurizio Brondè, non sono separate le due città, le due civiltà da un diaframma che le divida esattamente. Dal nostro punto di vista sembrano separate. Ma se si scandaglia il passato con teorie diverse, una teoria magari come la mia, si vede che esse furono unite, alleate, nello stesso progetto di rovesciamento del matriarcato e di istituzione del patriarcato con proprietà privata, famiglia monogamica patriarcale, e prostituzione, schiavitù e tutto il resto. Va bene, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato. Saluti a Gemini 060606 e tanti saluti da Serafino Massoni.